Continua in Alto Molise l'emergenza provocata dall'ultima ondata di maltempo. Ci sono ancora situazioni di pericolo per i collegamenti, soprattutto sulla strada per Agnone e Capracotta. Questa mattina, a causa del ghiaccio sul manto stradale, un pullman è andato di traverso e ha bloccato la circolazione. Di automezzi spargi sale, neanche l'ombra. Forse ci deve scappare il morto per mettere un po' di sale sulle strade dell'Alto Molise. Ma i danni più gravi il maltempo li ha fatti intorno ad Agnone, dove si registrano diverse frane, i movimenti più preoccupanti in contrada Zarlenga e in contrada Porfilio. In contrada Zarlenga sta venendo giù un'intera collina. Il movimento franoso ha investito in pieno un caseggiato, portandosi via una rimessa di mezzi agricoli e una stalla. Ma a rischio c'è l'intero caseggiato, abitato da tre famiglie, con una decina di persone, bimbi compresi. Il sindaco Carosella ha emesso un'ordinanza di sgombero, ma resta il dramma umano di chi, vivendo con l'allevamento degli animali, in una notte ha perso tutto e ora deve andare via. Ma che devo dire? Che vi posso dire? Non posso dire niente perché guarda, che cosa mi ha combinato? Non ho più niente da dire perché guarda, queste condizioni che devo fare? Dimmi, dicetemi voi che devo fare. Quando è successo e come se ne è accorto? Io la mattina alle quattro e mezza sono uscito da dove ammettere a mangiare gli animali, ho trovato questa cosa qua, ieri mattina. Ha sentito del rumore, lo smottamento? Niente rumore, niente, c'era tutto già fatto. Ma si sta ancora muovendo la frana? Ma questa notte ha camminato un pochetto, un altro pochetto sì, pochetto però. Ecco, che cosa ha dovuto fare? Lei aveva i trattori, i mezzi agricoli, gli animali? Tirarlo fuori, fuori, ieri abbiamo tirato fuori tutto e basta, questo è tutto. Il comune che cosa le ha detto? Il comune e la protezione civile? È venuto qualcuno? Ieri è venuto il comune, è venuto tutto, però io non ci sono stato perché ho avuto a fare il trasloco per gli animali, all'altra casa, a trovare le case per mettere gli animali e questo è tutto. E come il comune le ha offerte ospitalità? Ma io non l'ho visto il sindaco, il sindaco è venuto, però io non l'ho visto. Non c'era, non lo so che cosa ha detto, che cosa... Che cosa farete ora, signor Marco Vecchio? Io non posso fare niente perché io sto qua fino a che poi quando si porta tutto, si porta tutto, purtroppo. Che devo fare? Dicetemi voi che devo fare. Ma lei non vuol lasciare qui? Ma come faccio? Dove me ne va? Questa è la casa mia. Sono sacrifici di una vita? Una vita, la vita del mio padre, del mio nonno e io, una vita che qua, questa abbiamo fatto. Di niente, non ci ritroviamo più niente e questo è tutto. E alle mie spalle, quelle che state vedendo, sono le operazioni di trasloco. Già hanno portato via i trattori, hanno portato via le bestie. Ormai qui su, su questa montagna, non ci sono più speranze per restare. La situazione è davvero drammatica.